Il progetto che il Formez sta seguendo per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica per il Comune di Caevano è un progetto completo, dato il contesto all'interno del quale si realizza, ed è una dimostrazione un po' anche di questa funzione di versatilità e di customizzazione che il Formez attua nei confronti delle amministrazioni e dei territori. Si tratta di un progetto che prevede un'attività di supporto al Comune in una serie di linee di azione, tra loro integrate perché sono previste azioni di reclutamento, di formazione, di supporto al rafforzamento della capacità amministrativa e in alcune circostanze anche di assistenza tecnica. Quindi un intervento effettivamente integrato che lavora sulle condizioni abilitanti dell'organizzazione e su delle politiche specifiche, sulla parte di progettazione europea, come anche l'iniziativa a cui teniamo particolarmente, che è quella relativa al Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Coinvolge quarte e quinte elementari di tutte le scuole primarie del territorio di Caevano e ha visto la partecipazione di oltre 700 bambini che hanno votato per i componenti del Consiglio, 12 bambini e 12 bambine per rispettare l'equità del genere. Il Consiglio delibera a tutti gli effetti esattamente come un Consiglio comunale e ha deliberato la ristrutturazione della villa comunale Falcone Borsellino che sta curando il commissario di governo siciliano e la realizzazione della giornata del gioco che realizzeremo attivamente come Formez il 4 giugno prossimo. Stiamo, come dire, muovendo la coscienza civile a partire dai più giovani.